...sofferto che internamente non ci sarà che sia nessun senso, no? ...farlo diventare più passionale significa... ...e non posso accettare il silenzio, non posso dire che anche lui... ...e non posso accettare il silenzio, non posso accettare il silenzio... ...e all'inizio che 161 hanno fatto entro... ...je non posso accettare il silenzio, non posso accettare il silenzio... ...si potete varre inKY... ...al Mmih... ...e non posso accettare il silenzio... ...o ah, non posso accettare il silenzio... ...so il silenzio... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.